Tutto pronto a Narni, in provincia di Terni, per la decima edizione del Narnia Terror Night, l'evento, oramai diventato cult per gli amanti del genere, dedicato al cinema horror indipendente. La Kermess si svolgerà venerdì 17 novembre, a partire dalle ore 21, al cinema Mario Monicelli di Narni. La rassegna, a sostegno dei film horror indipendenti italiani, è organizzata dal regista ternano Eros Bosi. Bosi, ai microfoni di teleambiente, ha raccontato com'è nata la manifestazione. L'idea del Narnia Terror Night nacque nel 2014, quando stavo presentando il mio primo film circondato dalle tenebre. Siccome feci un'anteprima estiva a Narni, quell'anno per ottobre o per il periodo di Halloween avevamo parlato di una replica. E mi venne l'idea di aggiungere altri film, altri cortometraggi alla serata, in virtù di sostenere i colleghi, che grazie ai social c'era un contatto un po' con tutti, e presentare i loro lavori qui in Umbria. Da allora è andato sempre bene, mi ha sempre soddisfatto. Quest'anno sarà la decima edizione, che ti farà aver di 17. E delle novità di quest'anno saranno, oltre al mio nuovo film, Fallu the River, per seguire il mio editore che ho girato quest'anno, ci sarà un omaggio, che poi è un'altra edizione pure che gli avevo dedicato, quella è il 2015, a Fabio Salerno, un regista di Milano, che purtroppo quest'anno cadono i 30 anni dalla morte, e in suo ricordo proietteremo i suoi cortometraggi Vampiri dell'85 e Oltretomba dell'87. L'ingresso della serata costerà 5 euro. Con le telecamere di Teleambiente abbiamo incontrato il regista di The Grip, Francesco Longo. Il mio cortometraggio nasce con lo scopo di testare l'iPhone 13 Pro, per testare le sue prestazioni video. Ho visto molti esempi su YouTube di corti realizzati con questo dispositivo, mi è venuta questa curiosità. Il corto è molto breve, senza dialoghi, come altri corti che ho fatto in precedenza. Questa voglia di unire la tecnologia con il retro, quindi di metterci dentro molti riferimenti agli anni 80-90. Oltre ai due corti di Salerno e al nuovo di Bosi, verranno proiettati anche The Grip di Francesco Longo, Lucrezia di Simona Rurale e Saverio Lunare, Lion di Davide Melini, Maria e il Diavolo di Fabrizio Lamonica e La Tigre Veste di Nero di Luca Pincini. Sono quello a fare. Non te lo dirò una cosa.